Buonasera, sono il capo treno, benvenuti a bordo del trano Frecciarozza alta velocità da 95.59, il trano fermerà a Firenze Campo di Marte e arriverà a Roma Termini, vi invitiamo a tenere con voi il biglietto di viaggio anche quando vi è lontanato dal posto per poterlo eventualmente esibito al personale di bordo, vi ricordiamo che sul treno è invitato a fumare anche nelle tolette e negli spazi, in corrispondenza delle porte, good evening this is your trade card speaking, welcome on board, the Frecciarozza alta velocità, trade number 95.69, general stop in Firenze Campo di Marte, one arriving a Roma Termini, passengers are requested to take.